Benvenuti, benvenuti a tutti voi, ecco, ecco, è un tema questo estremamente interessante il cambio del concetto di leadership e io partirei proprio dalla dottoressa Valeria Cantoni Mamiani anche perché lei ha scritto un test, un libro intitolato Leadership di Cura che ha ispirato proprio anche il titolo di questa tavola rotonda e io parto da lei proprio per chiederle perché il vecchio concetto di capo legato appunto al controllo, all'impartire ordini ormai in questo contesto laborativo e organizzativo non funziona più. Buongiorno innanzitutto, buongiorno ai miei compagni di tavola rotonda. Ma allora, in realtà non renderai assoluta questa cosa, nel senso che ci sono situazioni, momenti all'interno di un'organizzazione e anche competenze e unit professionali che hanno bisogno ancora di persone che in qualche modo fanno eseguire bene i compiti ai propri collaboratori, per cui diciamo persone abbastanza autoritarie, mettiamola così. Però in realtà in tutto quello che è il mondo delle organizzazioni che invece hanno bisogno di innovare, che hanno bisogno di rispondere anche in maniera creativa, in maniera come si dice antifragile o come vogliamo chiamarlo, insomma, ai cambiamenti anche repentini, in tutte quelle situazioni invece l'autoritarismo non funziona più, non funziona più neanche con i più giovani che poi abbiamo chiamato, generazione Z, X, millennia, insomma come vogliamo chiamarli, perché le persone più giovani non sono diciamo in qualche modo più di tanto colpite dalla divisa, cioè dal ruolo, prima spagnolo parlava di come è importante trasportare i manager dal ruolo alla persona, alla crescita personale, per cui non funziona più perché i giovani, i più giovani hanno bisogno di sentirsi ascoltati, abbiamo sentito parlare moltissimo di ascolto questa mattina, mi ricordo noi in CFMT abbiamo cominciato a fare i primi workshop sull'ascolto nel 2016, prima di tutta questa buriana, hanno bisogno di sentirsi ascoltati e hanno bisogno in qualche modo di sentire che la persona che li guida, che li dà ordini, che li paga lo stipendio è autorevole, cioè sa, conosce, è competente e allo stesso tempo è interessata a loro, è fortemente e autenticamente interessata a loro, per cui capiamo che l'autoritarismo in questo contesto non è molto efficace. Ecco ma se l'autoritarismo non funziona più o comunque insomma solo in un determinato ambito, non è più applicabile al ruolo di manager to cure, quali sono invece le qualità che ora emergono, che ora funzionano? Io ne ho citate alcune, introducendo la tavola rotonda, l'ascolto, l'empatia, la capacità di accoglienza. Lei tra l'altro, dottoressa Mammiani, nel suo testo ne cita anche altre che io non mi sarei aspettata di vedere applicate appunto al tema della leadership, come la leggerezza e il gioco. Ci vuole spiegare ecco come applicare queste doti ad un manager, ad un capo, ad un leader? Ma c'è da dire che io ho scritto leadership di cura al termine, anzi quando ancora c'era il covid che navigava fra di noi e dunque c'era il lockdown, insomma la situazione era molto pesante e facendo io formazione e disegnando percorsi di trasformazione manageriale sentivo questo gran bisogno di leggerezza nelle persone con cui parlavo a distanza all'epoca. In realtà leggerezza non vuol dire superficialità, non vuol dire non prendere seriamente le cose, anzi la leggerezza di solito ce l'ha proprio chi è passato e attraversato situazioni esistenziali tragiche anche dolorose. La leggerezza è un punto di vista con cui guardare la vita e cioè è un modo di reagire non elefantiaco, non elefantesco agli accadimenti della vita ed è anche una qualità di un manager di essere leggero, cioè di non entrare a gamba tesa come un elefante all'interno di quella cristalleria che sono le persone con cui lavora perché gli esseri umani sono di cristallo, si rompono facilmente e dunque bisogna stare molto attenti a come maneggiarli. Poi anche il gioco. Anche il gioco. Il gioco è molto importante perché il gioco è il modo primario con cui l'essere umano apprende. I bambini imparano giocando, c'è un bellissimo libro che si chiama Free to Learn Liberi di giocare di Peter Gray che racconta come le tribune e i cacciatori raccoglitori imparano. Cioè imparano giocando a fare i grandi, giocando a fare i cacciatori, giocando a fare la mamma, giocando a fare tutte le cose che fanno i grandi. E anche noi in fondo giochiamo così. Il gioco è anche finalmente arrivato all'interno delle organizzazioni attraverso queste teorie del nudging che è di Richard Tyler, premio Nobel all'economia, uno psicologo, secondo psicologo premio Nobel all'economia dopo Kahneman che ha, come dire, ideato, ha teorizzato questo modo di influenzare i comportamenti umani in modo non impositivo, leggero, giocoso, le spinte gentili. Attraverso operazioni di nudging che tra l'altro noi stiamo facendo in alcune organizzazioni con risultati incredibili, cioè coinvolgendo le persone in maniera ludica, facendo fare alle persone cambiamenti senza troppi sforzi per cui superando il bias di default e cercando di coinvolgersi anche con un po' di competitività cioè attivando piccoli percorsi competitivi su progetti di vario genere si può aiutare le persone a cambiare, a trasformare i propri comportamenti in modo diciamo prosociale per cui aumentare la cooperazione, la collaborazione, il rispetto, l'ascolto e tutte queste cose. Ecco, grazie all'intervento della dottoressa Mammiani stiamo cercando di delineare proprio le caratteristiche del nuovo leader, quali sono quelle qualità che oggi come oggi un leader deve avere. Ovviamente lo stiamo iniziando a fare a livello teorico perché proprio partiamo da una riflessione, da un libro ma dobbiamo addentrarci poi nella pratica di quello che avviene all'interno delle aziende e quindi io chiamo in causa la dottoressa Rizzi e il dottor Sabatini per completare il discorso e chiedervi dal vostro punto di vista quali sono le caratteristiche che un buon leader, un buon manager di oggi deve possedere per farsi, ecco, di sfruttare al massimo il potenziale umano che ha a disposizione oltre a quello aziendale. Dottoressa Rizzi, incominciamo da lei. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito alla tavola rotonda di oggi. Allora, la mia esperienza guardando all'evoluzione un po' del leader di oggi è che intanto per quanto possa essere visionario, competente, solido, un leader non può più bastare a se stesso. C'è un mondo molto complesso là fuori e c'è la necessità di avere una pluralità di sguardi, di competenze diverse che possano appunto guardare, scoprire, comprendere i problemi che quotidianamente ci sono sui tavoli dei manager grazie proprio al fatto di essere seduti in posizioni diverse in una stanza. Qui io posso guardare un oggetto e lo vedo diversamente a seconda di dove sono disposta. Quindi non ci sono doti magiche, ma se noi ci spostiamo anche noi cambiamo prospettiva, cambiamo visuale. Allora, avere per esempio un leadership team, quindi una prima linea che ti supporta e che supporta il direttore generale, un amministratore delegato, nel guardare ai temi strategici, critici e complessi che ci sono sul tavolo usando sguardi differenti io trovo una dote molto potente. Per far questo il leader deve consentirsi di poter usare e beneficiare di questo supporto diverso da sé. Quindi per farlo c'è necessità in primis di saper ascoltare molto bene, quindi questo lo abbiamo detto prima, di prendersi cura della propria squadra. Prendersi cura della propria squadra, secondo me, anche creando un contesto organizzativo che, diciamo, sia sicuro da un punto di vista emotivo. Quindi non solo la sicurezza sul lavoro più canonica, no? Però nel momento in cui io chiedo ad un team di pari di esprimersi, di dare la propria opinione, che potrebbe essere anche diversa, perché posso aprire una parte che non è stata vista, ascoltata, presa in considerazione, magari potrebbe essere anche forte, no? Come visione altra, lo posso fare se so che non mi succede nulla. Quindi se posso anche dissentire. E per fare questo c'è un patto più o meno tacito che le organizzazioni devono fare, perché dico più o meno, perché può essere in un microgruppo, può essere cultura aziendale. In Zurich Bank, per esempio, di questo ne abbiamo fatto un pezzo di cultura aziendale. Cioè si può dissentire, si può dire la propria, poi ci sarà qualcuno che fa sintesi, il leader deve riuscire poi a prendere gli spunti che sono arrivati a farli suoi e la decisione finale deve essere presa da chi guida. Ma la possibilità di poter esprimere le proprie opinioni passa da un contesto organizzativo che sia un contesto organizzativo sicuro. E la seconda cosa è concedere anche di nuovo a se stesso di avere un team dove la collaborazione orizzontale sia premiante. Che significa di nuovo avere un supporto, avere una pluralità di viste diverse, ma soprattutto avere l'unione, la capacità di far fronte anche ai momenti difficili contando su un supporto orizzontale. Prima qualcuno, in una tavola rotonda precedente, un collega parlava di solitudine, di qualche funzione. Ecco, io credo che il gioco di squadra trasversale, anche tra manager, anche tra leader, sia un grosso supporto e una grossa risorsa, anche nei momenti di grande complessità, che noi dobbiamo andare a gestire. Funziona un po' come nei contesti sportivi, alla fine, che per comprendere la figura del leader, in realtà dobbiamo comprendere il contesto di squadra. Ecco, non dobbiamo mai analizzarlo nella sua individualità, ma inserirlo sempre all'interno del gruppo. Ecco, dottor Sabatini, continuiamo con la descrizione della figura, ecco, di questo nuovo leader, della nuova leadership che deve affermarsi in questo contesto lavorativo, appunto, differente che abbiamo descritto. Un buon manager, ecco, che deve, come abbiamo accennato prima, mettere insieme hard skill e soft skill, quindi delle competenze tecniche che sicuramente devono restare a delle nuove tipo di competenze che riguardino, appunto, l'ascolto, l'empatia, la capacità di entrare in contatto con i propri collaboratori. Ecco, è questa miracolosa armonia che noi dobbiamo cercare in un buon manager? Grazie intanto per questo invito. Un saluto a tutti quelli che ci seguono in sala e anche da remoto. Ovviamente, diciamo, tutte le caratteristiche che sono state illustrate questa mattina sono tutte quante presenti. La figura di un dirigente moderno, di un manager moderno è complessa, è molto articolata e ha sicuramente un po' tutte queste sfaccettature, per cui è difficile anche farne una definizione univoca. Se volessimo trovarne una che gli si avvicina un po', potremmo pensare al motore del cambiamento. In realtà, in questo momento, forse, deve essere soprattutto quello. perché è un concetto che tiene insieme due cose. Da un lato, diciamo, il ruolo di guida che un dirigente, che un manager, storicamente ha sempre avuto e dall'altro anche la capacità trasformativa che invece in questo momento è particolarmente richiesta anche perché il contesto cambia velocemente e anche le sfide manageriali cambiano velocemente. Allora, io sono il responsabile di un fondo interprofessionale quindi il nostro è un punto di osservazione particolare perché noi finanziamo la formazione continua dei dirigenti delle aziende private e quindi osservare la formazione quindi osservare le cose che le aziende fanno in questo momento ci dà proprio la sensazione delle esigenze che esprimono e anche della direzione di marcia verso cui si muovono. Allora, due numeri soltanto per dare un po' il senso di questo ragionamento. Lo scorso anno noi abbiamo finanziato circa 2.400 piani formativi da parte delle imprese che hanno dirigenti, che sono dirigenti inquadrati come tali. abbiamo coinvolto circa 12.000 dirigenti e abbiamo erogato circa 27 milioni di euro di finanziamenti quindi insomma il nostro è un campione abbastanza rappresentativo. Allora, questi piani formativi, questi 2.400 piani per metà sono stati rivolti a competenze legate ad esempio alla leadership alla vision dell'azienda al cosiddetto change management quindi alla capacità di far cambiare pelle all'impresa per l'altra metà sono stati rivolti a competenze tecniche come la professoressa prima ci ricordava proprio questo cioè questi aspetti diciamo così anche di ruolo che il dirigente deve avere rimangono invariati continuano a averceli e quindi le competenze ad esempio in materia di sostenibilità sono molto richieste dalle imprese e ai dirigenti delle imprese. Le competenze in materia di digitalizzazione ad esempio quindi di trasformazione digitale delle aziende e ancora le competenze in materia di rischi che le aziende devono fronteggiare in questo momento ma anche le competenze in materia di internazionalizzazione le imprese che sono nostre aderenti sono in gran parte imprese che sono rivolte ai mercati internazionali. Ecco, se andiamo a vedere questo mix abbiamo più o meno un'idea di quello che serve in questo momento al manager quindi per metà una competenza esattamente per metà una competenza di natura soft e per l'altra metà una competenza di natura più hard più legata alle competenze tecniche credo che questo esprima proprio numericamente anche quello che serve in questo momento. Ecco, la riflessione del dottor Sabatini che punta naturalmente sulla formazione ci fa fare uno step in più è una considerazione ovvero che buon leader e buon manager non si nasce ma si diventa proprio anche attraverso un percorso e ci sono delle figure anche che aiutano i manager a compiere un processo evolutivo una di queste figure è il business coach e io qui introduco l'ultimo speaker della tavola il dottor Antonio Panico che proprio ecco durante il suo percorso professionale riesce ad avere una fotografia immediata della situazione io innanzitutto ecco le chiedo come lei aiuta i manager a diventare dei professionisti migliori e soprattutto quali sono le aree, gli ambiti in cui c'è una carenza di leadership a livello manageriale chiedendole anche qual è il primo consiglio che darebbe per migliorare intanto grazie dell'invito grazie a tutti quanti buongiorno sono molto contento di quello che ho sentito perché in realtà è proprio quello che ci vuole infatti il business coach così come lo rappresentiamo noi nella nostra azienda differisce un po' da un precedente modello di coaching in cui ci si soffermava esclusivamente sulle soft skills, sulla consapevolezza di sé il business coach è qualcuno che abbina il coaching e le attività tipiche del coaching alla consulenza di processo e anche quella di direzione quindi dove il coach interviene con il proprio coach non soltanto supportandolo nella parte soft ma anche hard non dimentichiamoci che se è vero che la leadership ha bisogno di una serie di soft skills come l'empatia la comprensione, la comunicazione questo è assolutamente vero e il modello americano ne parla tanto il modello americano se andiamo in America e noi le formazioni che facciamo deriva da quella americana sostanzialmente nella leadership parlano tanto di comunicazione, empatia prendersi cura ed è giustissimo ma se confrontiamo i nostri dirigenti i nostri imprenditori con quelli americani mediamente un italiano sa comunicare molto meglio di un americano è molto più empatico, è molto più attento agli altri culturalmente a differenza degli americani noi siamo molto meno organizzati un imprenditore o un manager americano è una persona che come prima cosa organizza i processi e dicono i processi sono più importanti del prodotto addirittura quindi lì ci sofferma moltissimo sulle soft skills perché mancano rispetto all'organizzazione da questa parte del globo noi in particolare italiani siamo fortissimi nelle relazioni siamo un po' più deboli un po' sostanzialmente più deboli nella parte organizzativa anche nella parte organizzativa che riguarda la leadership perché per esempio la mia azienda ha fatto un sondaggio un'analisi che ha coinvolto 5.000 aziende circa 5.000 aziende piccole, medie e micro imprese e la leadership è risultata la competenza meno sviluppata all'interno della leadership l'item meno sviluppato, incredibile ma vero è questo i collaboratori ricevono, hanno vengono dati in qualche modo ai collaboratori obiettivi chiari, misurabili e scritti la risposta è no nel 95% dei casi all'interno degli item che riguardavano la competenza della leadership l'item più sviluppato era il capo, l'head, il leader ha dei momenti di confronto sui miglioramenti, sui progressi collaboratori questo era l'item più sviluppato più del 50% dell'intervista rispondevano sì domanda capite che c'è la volontà di far bene il leader perché applicano la regola di confronto dicono i collaboratori e verifica se ci sono progressi ma se non hai dato obiettivi all'inizio cosa stai misurando? qui ci si incontra, si fa la parte soft della leadership però ci si è dimenticato di creare obiettivi chiari misurabili e scritti allora un business coach è qualcuno che quando si affianca un manager abbina le due cose abbiamo tantissimi casi non soltanto nella piccola e media impresa e anche multinazionali americani io anni fa segui un dirigente di una multinazionale americana 200 milioni di euro in Italia che ha la domanda sull'argomento della leadership e il problema è che questa persona qui aveva tutta la teoria ma poi non guardava i numeri dei propri uomini quindi giudicava a sensazione l'operato dei propri uomini andando a guardare i numeri ci siamo resi conti che le cose non erano così come lui riteneva ecco il business coach abbina le due cose quindi quando ci si dimentica di fare la parte tecnica la si guarda quando bisogna alimentare e nutrire il manager della parte soft lo si fa questo è quello che facciamo ecco sì abbiamo parlato un po' ecco di paradosso anche della leadership no? perché i leader vengono descritti spesso dipinti come delle persone visionarie che hanno appunto dei grandi sogni da realizzare e da compiere ma che però magari poi dal punto di vista organizzativo delle azioni concrete non sanno come tradurre la visione e il sogno in realtà e i numeri insomma del dottor Panico poi ce lo confermano io volevo fare un altro giro di domande coinvolgendo i nostri speaker a partire proprio da una metafora che ha fatto il dottore Caponetto nella tavola rotonda precedente cioè quella della difficoltà ecco di guidare la barca in una tempesta perché il leader appunto lo si vede soprattutto nel momento della crisi una crisi che può essere diciamo personale cioè della propria realtà aziendale o una crisi di sistema come quella che stiamo attraversando a livello nazionale e internazionale e quindi una domanda che rivolgo a tutti voi qual è l'atteggiamento giusto da adottare da parte di un leader nel momento di crisi? Ripartiamo dalla dottoressa Cantoni Mamiani ma rispetto a quello che ha detto anche chi mi ha preceduto io credo che il tema dell'ascolto gli va tolta un po' di retorica e va invece contestualizzato in un senso molto funzionale cioè i bravi manager oggi non necessariamente devono essere i bravi tecnici perché quello che vedo nella parte invece più formazione è che molto spesso i manager fanno da collo di bottiglia cioè quel famoso l'atteggiamento del micromanagement quel manager che è convinto di sapere lui più degli altri o lei più degli altri e dunque dice faccio io che faccio meglio questo è un elemento di tossicità enorme all'interno del team diciamo del loro gruppo organizzazione perché è molto demotivante per le persone che stanno attorno per cui mi viene da dire nella tempesta bisogna aprire le orecchie per riuscire a coinvolgere le persone che ne sanno più di te sulle micro cose a livello verticale cercando di mettere a sistema quello che ascolti cioè andare di più a chiedere aiuto c'è questa cultura secondo me ancora in Italia molto forte che chiedere aiuto è una forma di debolezza in realtà saper chiedere aiuto è una di quelle secondo me di quelle competenze fondamentali che oggi un manager deve avere cioè di fare le domande giuste alle persone giuste e soprattutto di coinvolgere chi ne sa più di te in un sistema dove queste persone competenti possono dialogare con altre persone rompendo un po' quelli che sono i silos organizzativi che sono un altro problema enorme all'interno delle organizzazioni cioè ancora adesso nonostante la tecnologia nonostante nonostante tutto quello che l'IT ci offre però ancora il silos è un problema all'interno delle organizzazioni le persone non si parlano fra di loro dunque c'è un dispendio di energia di denaro di competenze enorme un buon manager nella tempesta è colui che mette mette insieme fa parlare queste queste differenti silos e queste differenti competenze ecco quindi nella tempesta nella crisi saper chiedere aiuto a chi ne sa più di noi la sua ricetta dottor Sabatini qual è invece? Allora ricetta non ce n'è ovviamente ma c'è qualche impressione che nasce dall'osservazione della realtà e dall'osservazione dei processi da un punto di vista ovviamente che è parziale che è quello che ho illustrato in precedenza sicuramente il nostro punto di vista è quello dell'apprendimento e quindi di come si può usare l'apprendimento anche per aprire questi silos di cui si parlava in precedenza e quindi per mettere la circolazione delle informazioni da questo punto di vista noi abbiamo cercato di capire per esempio recentemente qual è il ruolo del dirigente all'interno dei processi di apprendimento all'interno dell'azienda non soltanto ripeto dei dirigenti che per lavoro si occupano di risorse umane ma di tutti quanti i dirigenti quindi di tutti coloro ai quali è assegnato un gruppo di persone e abbiamo realizzato un approfondimento con duemila responsabili dei risorse umane l'abbiamo fatto insieme ad IDP che è l'associazione della direzione del personale è venuto fuori un profilo interessante che è quello di quello che abbiamo chiamato manager formatore che cos'è questo diciamo manager formatore è diciamo così è il dirigente che esercita un ruolo per da un lato in qualche modo formarsi ovviamente per se stesso per aumentare la sua occupabilità in fondo e anche la sua diciamo la sua vita lavorativa di lungo periodo ma anche un soggetto che si preoccupa attivamente quindi la parola chiave è proprio diciamo la proattività delle persone con le quali lavora tutti i giorni in particolare facendo che cosa da un lato in qualche modo diciamo così incamerando e rendendo disponibili e dandogli un senso alle diciamo così alla lettura del contesto che il manager deve fare che è una delle sue funzioni principali dall'altra anche accompagnando attivamente le persone all'interno diciamo dei percorsi che gli consentono l'apprendimento facendo quello che il dottor Caponetto ci suggeriva nella tavola rotonda precedente cioè creando in azienda un contesto favorevole all'apprendimento che non significa soltanto formazione naturalmente ma significa fare in modo che l'apprendimento sia il processo cardine all'interno sul quale riposano le principali scelte che l'azienda compie anche per questo noi l'ultimo avviso che il fondo ha appena pubblicato è stato pubblicato proprio la scorsa settimana si chiama apprendere per competere serve proprio a questo a dare alle imprese aderenti la possibilità di utilizzare le risorse della formazione proprio per fare in modo di adeguare le loro aziende a questa esigenza di apertura del contesto lavorativo ai processi di apprendimento per metterli al centro delle scelte che l'azienda deve fare invito tutti ovviamente a seguire i termini si aprono il 15 maggio prossimi tutte le aziende aderenti possono partecipare ecco abbiamo individuato un po' le ancore di salvezza visto che abbiamo parlato di mare in tempesta appunto l'apprendimento la richiesta di aiuto la capacità anche di aprirsi agli altri dottoressa Rizzi ecco che cosa vuole ecco che cosa ci vuole suggerire allora io vorrei sottolineare questo in aggiunta perché poi mi trovo molto d'accordo con quello che è stato detto prima di me aggiungerei che essere un leader gentile che è il titolo di questa tavola rotonda non significa non essere concreti pragmatici e alla fine scaricare a terra le soluzioni perché oggi come oggi una crisi ad una crisi ne segue spesso un'altra più o meno grande è diventata un po' la normalità non è più l'eccezione tanto che nel vocabolario è entrata una nuova parola permacrisi crisi permanente è una nuova competenza che dobbiamo imparare esatto una nuova competenza tra l'altro ho sentito da un formatore una metafora un'espressione molto bella ha detto è come se giocassimo a monopoli e capitassimo costantemente sulla casella imprevisti questa è diventata la nostra realtà quotidiana quindi questo chiede nuove competenze anche ai leader quindi sicuramente c'è un tema di formazione che deve essere una formazione continua credo di nuovo che la potenza del gruppo possa aiutare comunque il singolo quindi il singolo leader perché anche qui il capitano dovrà portare la nave in porto ma non lo fa da solo per riuscire a portarla in porto nel modo giusto la cosa importante è usare tutte le capacità il pensiero laterale di fronte ad un imprevisto perché è qualcosa che io non ho imparato prima che posso non aver sperimentato non aver fatto allora per questo le persone i nostri team hanno bisogno di avere dello spazio però quindi non bisogna scadere nel micromanagement come si diceva prima bisogna delegare ma lasciare anche lo spazio dell'innovazione se io non copro tutto quello che c'è da fare ma lascio dello spazio lo spazio viene riempito questo è un principio fisico viene riempito viene riempito da altri che possono saper fare meglio di te alcune parti e possono contribuire alla soluzione della crisi e del problema che cosa rimane invece in maniera forte importante nelle mani del leader e qui mi ricollego un po' anche a quello che si diceva prima la capacità poi di scaricare a terra l'execution io credo che oggi sia un tema estremamente importante tanto quanto lo è la visione e la strategia quindi dove devo portare la barca in quale porto ma come arrivarci è fatto di una serie di dettagli che non vanno sottovalutati di regole e di processi che vanno condivisi ma soprattutto di un metodo che il team l'azienda la realtà organizzativa si deve dare perché nel momento in cui la nave non ha un motore ma i remi devi remare tutti allo stesso ritmo e nella stessa direzione quindi execution con capacità di lasciare dello spazio libero di gioco ai propri giocatori perché possano anche innovare e trovare delle soluzioni ad un problema che magari non si è rappresentato fino a prima questo io credo che dia tanta velocità alle organizzazioni e dia sostenibilità alla leadership stessa quindi non solo la capacità di uscire da una tempesta ma la capacità di ritornare dentro una tempesta di starci e di starci fatemi tornare su questo sapendo prendersi cura di sé prima ancora che degli altri se io non sono in grado come leader di prendermi cura di me non sarò in grado di prendermi cura della mia squadra e quindi questo è un pezzo importante quindi la sostenibilità passa dalla capacità di stare nei momenti di crisi per lungo tempo in maniera prolungata senza soccombere al peso della crisi ecco assolutamente la capacità di stare nella crisi e di di non perdere insomma l'orizzonte perché questo anche può capitare nella tempesta di non vedere la via d'uscita la soluzione perché le crisi appunto durano sempre di più e dottor Panico chiudiamo con lei ecco sull'atteggiamento giusto da avere da tenere proprio per affrontare i momenti di crisi perché io lo dicevo a lei insomma nella chiacchierata preliminare che abbiamo fatto mi ha incuriosito molto la sua strategia la strategia che propone cioè più la crisi è importante è difficile da affrontare più bisogna alzare l'asticella ed essere ambiziosi in che senso ecco ce lo spiega mi devo collegare a tutto quello che è stato detto fino ad ora però devo fare una piccola premessa perché per dare valore aggiunto dopo quello che è stato detto è complicato faccio una piccola premessa io sono molto pratico leader è colui che conduce il team a raggiungere gli obiettivi punto e quando lavoro nelle aziende mi chiedono valutiamo la leadership delle persone in cui lavoriamo la mia domanda è vi fate vedere i progressi dei team perché se un team è progredito significa che il leader è bravo se il team non è progredito non è bravo il leader ora cosa bisogna fare per portare il team a raggiungere l'obiettivo tutto ciò che è necessario tutto con quale stile dipende dal team dipende dal singolo componente del team quindi con qualcuno deve essere un po' più autorevole con qualcuno più autoritario perché è ancora immaturo con qualcuno che è un po' più giù di tono deve essere un po' più cheerleader con qualcuno che è più autonomo ed entusiasta lo devi lasciar fare sbagliare e correggerlo adattarsi al team questo è fondamentale senza mai dimenticarsi che un leader è tale se il team c'è senza il team non puoi andare a nessuna parte nei momenti di crisi cosa fare? ci sono vari atteggiamenti da utilizzare non soltanto uno il primo è certamente non batte in ritirata che è quello che noi italiani le nostre aziende fanno sempre io questa cosa l'ho imparata sul campo lavoravo per una multinazionale italiana una grande azienda del farmaco italiano dove questa azienda ha recuperato e conquistato quote di mercato perché nelle crisi cicliche che caratterizzano il mercato farmaceutico che è regolato e quindi ciclicamente va in crisi mentre le multinazionali licenziavano mandavano a casa il team di vendita riducevano questa azienda manteneva il team recuperando quote di mercato che poi non perdeva quando il mercato ricresceva certo non essendo una SPA non doveva giustificare perdite ai azionisti erano soldi della proprietà impresa privata quindi poteva permetterselo questo mi fece capire in giovane età a 25 anni ero un manager di un'azienda che portava i calzoni corti che di fronte alle difficoltà l'unica cosa da fare è continuare a fronteggiare come diceva la dottoressa la prima caratteristica leader è fronteggiare stare di fronte alla crisi senza farsi prendere la lancia questa è una grande competenza bisogna essere molto consapevoli e sapere cosa si sta facendo la seconda cosa è avere quell'atteggiamento indipendente tipico dei leader che vincono che nei momenti di crisi sa che ci può essere una soluzione e che la strategia abbattere e ritirata è quella da cavernicolo la differenza anche nei cartoni animati la differenza tra l'homo sapiens e il cavernicolo e che il cavernicolo di fronte alle crisi si è intanato e l'homo sapiens ha conquistato prati verdi e posti migliori allora oggi viviamo stiamo andando siamo già forse dentro a una crisi dettata dall'inflazione di fronte a questo momento storico e ovviamente senza cittare la guerra eccetera di fronte a questo momento storico molti batteranno stanno già battendo in ritirata l'imprenditore il leader che capisce che può mantenere la posizione e magari con le stesse risorse di primo anche meno recuperare share of voice in termini di presenza sul mercato gli consentirebbe di conquistare gli consente di gli consentirebbe di recuperare quote di mercato che magari oggi possono significare pareggiare rispetto all'anno precedente o a anni migliori ma quando il mercato ripartirà perché i mercati ripartono storicamente quella quota di mercato non la perde più questa è la strategia che per esempio ho utilizzato io nel 2020 quando tutti i miei colleghi i miei competitor si sono fermati io ho continuato a essere presente sul mercato e nel 2020 abbiamo raddoppiato il fatturato ma la stessa strategia che abbiamo fatto applicare a tanti nostri clienti ne cito uno cito il peggior caso che abbiamo avuto per evitare di non voglio fare il fenomeno quindi cito il peggior caso di un'azienda legale che nel 2019 aveva fatturato 5 milioni nel 2020 avendo assunto altro personale arriva il covid abbiamo imbastito una serie di attività non sta qua a spiegarle come e per quanto che di fronte alla proiezione di fatturato di 500 mila euro a fine anno in realtà abbiamo fatto 3 milioni abbiamo limitato i danni al minimo l'azienda ha chiuso con un guadagno quell'anno le cose sono andate bene ovviamente abbiamo dovuto riorganizzare velocemente tutto ma con un atteggiamento indipendente fronteggiando la crisi senza farsi prendere la parola cercando la soluzione in maniera pragmatica ha portato quell'azienda a ottenere dei risultati questa questa è un'abilità che un leader oggi deve sviluppare non può non farlo altrimenti viene divorato dalle prossime 40 crisi che ci saranno qua nei prossimi 40 anni o 20 se volete perché se durano due anni l'una noi siamo in un mercato in cui la globalizzazione le vicende macroeconomiche sociali ci porteranno ad avere alti e bassi continui sembra quasi fatto apposta sembra un po' è per come è organizzata l'economia mondiale che porta a questi fenomeni un leader deve sapere organizzarsi deve sapere in maniera indipendente da quello che viene detto fronteggiare la situazione e trovare una soluzione è sempre possibile farlo? no ma meno si possono limitare i danni è dura? è dura? sì faticosissimo seguire l'azienda legale o tante altre aziende o anche noi stessi per noi è stata durissima però ce l'abbiamo fatta e ce l'abbiamo fatta bene quindi un leader deve avere questo atteggiamento qui un leader che ha questo atteggiamento diventa un leader migliore perché il team ha bisogno e sente bisogno in maniera più o meno consapevole di essere guidato e raggiungere gli obiettivi a nessuna squadra piace perdere ergo se io ho il mio capo il leader più o meno autorevole più o meno comunicativo più o meno empatico che però mi fa vincere viva Dio faccio partire la giusta squadra e mi attacco la maglietta se c'ho il capo che è bravissimo ma poi si perde sempre mi guardo intorno in circa di una spiaggia migliore cioè è uno magari ecco degli aspetti che può scatenare poi il turnover nel senso e anche la volontà di cambiare posto il rapporto con il capo e avere ecco un capo un leader di cui ci si può fidare e affidare c'è la professoressa Mambiani che vuole fare un'ultima riflessione sì che mette insieme la cura di sé con quello che hai detto tu adesso avere cura di sé che è fondamentale negli aerei dicono prima di mettere la mascherina ai bambini dovete metterla voi vuol dire anche imparare a fare i conti con le proprie paure con le proprie automatismi con le proprie manie con le proprie ossessioni e dunque anche in qualche modo imparare a non farsi prendere dal panico di fronte alle situazioni per cui come dire formarsi dal punto di vista proprio della personalità e della capacità di tenere la barra dritta e questo prendersi cura di sé vuol dire anche questo poi il come ognuno lo fa come vuole però essere consapevoli che ognuno di noi ha degli automatismi ha delle manie delle ossessioni la gestione delle emozioni la gestione delle emozioni e della nostra irrazionalità di fatto benissimo io ringrazio davvero gli speaker di questa tavola rotonda il leader gentile dal controllo alla cura la professoressa Valeria Cantoni-Mammiani founder di Leading by Heart Alessandra Rizzi head of human resources and organization Zurich Bank Massimo Sabatini direttore generale fondi dirigenti Antonio Panico business coaching Italia grazie mille per essere stato con noi